Un altro grave episodio di cronaca si è verificato all'ospedale Moscati di Aversa. I parenti di un paziente trasportato al pronto soccorso hanno aggredito e picchiato con pugni il primario Rosa Rauci. Un episodio molto grave che tra l'altro si è verificato durante la visita ispettiva della Commissione Trasparenza della Regione Campania. Ancora una volta il pronto soccorso del Moscati sotto i riflettori per l'aggressione di sanitari, di medici, infermieri. Una situazione che in verità è da anni così esplosiva ma finora non si è riusciti a risolvere questo problema che mette fortemente a repentaglio l'incolumità degli operatori sanitari. Il pronto soccorso di Aversa vive una situazione difficile a causa della carenza del personale. I disagi ovviamente maggiori si riversano sugli utenti.